E' inutile parlare ancora di tutte queste cose, ormai la nostra situazione non ha una via d'uscita, cerca un altro argomento di conversazione. E' inutile tentare ancora, non c'è la soluzione, ma tutte volte hai già tentato e dopo hai rinunciato, cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile, di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come pare a te i pensieri della gente, ma per me non è così. E' inutile, non pensiamoci, che cosa vuoi pensare, ora o mai conviene più lasciare le cose come stanno, cerca un altro argomento di conversazione. E' inutile, non c'è sempre che fra noi qualcosa è rimasto, io dico che cosa è rimasto, tu dici forse tutto, cerca un altro argomento di conversazione. E' a te sembra tanto facile, di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come pare a te i pensieri della gente, ma per me non è così. E' inutile parlare ancora di tutte queste cose, se ciò che si dovrà parlare, facciamo come dico io, cerca un altro argomento. Di conversazione, cerca un altro argomento di conversazione.